Un animale in via di estinzione. Circa un secolo fa erano rimasti solo una cinquantina di esemplari di camoscio sull'Appennino centrale. Con l'operazione camoscio lanciata negli anni 90 dalla direzione del Parco Nazionale d'Abruzzo, ad oggi gli esemplari sono oltre 3.500 sani e ben distribuiti tra i parchi della Maiella, Monti Sibillini, Sirente Velino e Gran Sasso Laga. A prendere parte in maniera attiva al recupero di queste specie animali, il comune di Farindola sempre considerato porta d'accesso al parco. Così il gruppo camoscio Italia ha deciso di nominare Farindola capitale del camoscio d'Abruzzo, portandola alla ribalta internazionale. Da qui ora parte l'accorato appello a lanciare la fase conclusiva, riportando l'ungulato anche nelle altre catene montuose. Un grandissimo successo perché il futuro riporti la vita e non la morte nel nostro appennino. Farindola capitale del camoscio d'Abruzzo è stato deliberato all'unanimità del Consiglio Comunale questa straordinaria riconoscenza che arriva dopo 30 anni dalla prima reintroduzione storica avvenuta il 29 luglio del 1992 a cura di Lega Ambiente e del CAI di allora. Un ringraziamento a tutti i volontari di allora che hanno contribuito alla realizzazione dell'area fonistica e a tutte le associazioni di oggi che ci aiutano a rinnovare la memoria ma soprattutto a pianificare un futuro ricco di programmi ecosostenibili volti allo sviluppo territoriale e turistico. Un ringraziamento a tutto il Consiglio Comunale in particolare ai consiglieri di minoranza perché hanno da sempre dall'inizio di questo mandato condiviso ogni progettualità volta al rilancio della nostra amata comunità.